Ah, signori, il nostro ospite è il signor Baptiste. Buonasera. Signori, spero che vi divertirete alla festa. Piacere. Piacere. Al nostro potenziale successo. Salute. Salute. Vi serve qualcosa? Un po' di privacy per adesso. E dell'altro whisky, se possibile. Signori. Ehi, Tiffany. Sì, signor Baptiste. Morel, vuole dell'altro whisky? Va bene. Sai che ti dico, che sono i fratelli? Signor Baptiste. Che pesce là il bicchiere? Tira droga qui dentro. Oh. Dentro il coso, sulla zip, vitaiolo. Che cazzo è? È uno scherzo. No, non è uno scherzo. Cabello. Ciao. Grazie a tutti